Buongiorno a tutti ragazzi sono Jigtree e benvenuti in questo nuovo video di Griefing Mi sono armato per bene Sono un'altra pazzola Vi voglio far vedere solo Cosa cazzo di ferro Guardate ragazzi quante cose C'è una varia di ferro Ah e prima ho visto E c'è la lava lì Quindi andiamo a prendere subito Prendiamo prima la lava e poi il vero giro Sono tutto eccitato Ma poi faccio segno qua subito Guarda Ma poi faccio segno Oh ok ragazzi se non sbaglio questa è la fazione dell'admin carolina si chiama l'admin ragazzi non so se vi farò anche la spu perché ha provato a toglierla e me la faccio a togliere vi proverò in altri minuti dai iniziamo con buttare una secchiata d'acqua non so cosa sto combinando merda ragazzi mi devo fare le forbici scusate se non parlo molto mi devo concentrare faccio un po' immagino ma comunque se vi piacciono questi video mettete mi piace così continuerò a farlo mi sono andato oh mio dio ora da dove esco che culo questa prima casetta direi che è distrutta anche se non l'ho distrutta ma ci ho messo solo l'alala e ora ci occupiamo di questa pixel art iniziamo a distruggerla con le forbici ok andiamo ho distrutto le scorie come cosa faccio salire vabbè iniziamo ah no l'ho fatto l'accendino vabbè finchè non mi imbalano questa è una grifata epica e là c'è un'altra costruzione vabbè saliamo l'antica facciamo così ok e ora la secchietta di lava ok facciamo qua così merda mi sa che uno è di meno vabbè continuiamo dai questo è il server non italiano come avreste capito vabbè voglio attivare un merda un gold miner ok 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 Vaga Mi sto guardando Continuo ragazzi Finchè non mi banno Che cazzo sta a dire questo Vabbè continuo E ora come la faccio a scendere Ecco Che cool Ok direi Di strutturare un troppo Finchè non mi banno Merda sono un demente Ecco gli amanti Merda 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 Si Che cool Questa è la fretta Non so come lo sa a dire F di spand Che cazzo sta succedendo Vabbè noi continuo a distruggere Nii No Si Su Le ha diministrato a vedere un calcio C'è quello che mi osserva Dove nemmeno spacco in testa Ok Vado giù velocemente A prendermi diamanti Scusate se sto allargando Vabbè cazzo Non la prendo più di tanto Perché chissà se torna in questo server Quest'altra costruzione cazzo E' distrutta Un krell Ok E' distrutta Quello continua a distruggere low chissà che stanno dicendo quelli vaffanculo vabbè non perdiamo il tempo anzi voglio fare un'ultima colata ho questo mi sa che è un foro non saprì un'ultima colata dove la facciamo? non c'ho più salgo con la lana non mi dico un cazzo quant'è che vuoi fare? porca io devi buttare una colata qua ma non so come scendere faccio F1 un medio come lagga butteremo anche una colata di lava anche qui ma comunque ho trovato che è l'admi quindi probabilmente non so se non vedo la sicurezza forse 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 grifferò lo spoon forse ma è più sì che no è più no che sì anzi ragazzi ragazzi scusate il lag cercare di rimediare presto allora continuano a distruggere un medio lag continuano a distruggere ragazzi merda stavo cadendo la roba dunque gli admi che continuano a parlare come se non lo fosse chissà cosa accadde stavo dicendo ehi creeper vieni qui scoppia scoppia non consumi quanti cazzo di strati su vabbè si che ci dico ecco la lava che cura ok continuano a distruggere oh buttiamo questa secchiata perca puttana ok andiamo a prendere dove stava la lava la cazzo mamma quanti cazzo di mondo e non cadro scherzi 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 ok ora se qualcuno mi fa cadere nella lava sono cazzo amare scherzi quante persone ecco ma muoio si un creeper andiamo a prendere la lava ecco ma non so ma non so come devo andare a prenderla oh tu quante frecce no oh ho paura che mi cade dalla lava addosso ok ci riempiamo di lava e distruggiamo le ultime costruzioni che rimavano di nuovo in questa fazione quelli parlano non so neanche cosa stanno dicendo ok io continuo qui allora merda ok ok ah qui è ok inondiamo di lava che nerdata non so non so non so non so che Tu muori, tu muori, odio condimo mentre griffi rompono le mie palle. Andiamo ancora per far cadire la lava giù. Merda. Vediamo se qui sotto ce la lavasse. Mi sembra che ho preso un tocco. Ok, qui ho finito. Questa è la griffata epica. C'è con gli admin a fianco. Se non siete accorti prima. Avevo gli admin a fianco. Vabbè voglio andare a casa. Avevo gli admin a fianco. Non me ne ho detto niente. Andiamo ad andare con la casa. Vediamo una fregiativa. No. Vediamo che sta qua. Niente. Merda. Ma perchè? Che leggi giurde? Mmm. Col cavolo che ti accetto. Anzi. Non ho ancora. Ma vabbè non accetto. Non ve lo farò più tardi. Ho bevuto la lava. Ok. Ok, là va. Questa è la mia. Questa è la mia. Distrutta. No. Questa è la K. Buttiamo l'acqua. Non so dove andrà a finire. Io volevo che andavi giù. Ok. Spacchiamo. Dove sto la lava. Allora. C'è l'acqua. Ah. Dalla canina. Mi sa che questa è l'ultima costruzione. qui. Questa. costruzione è andata distrutta ora ma per quanto non mi sono salvato vorrei ancora distruggere questa costruzione cazzo se fuck cos meoli messi da griff oscar 80 io vorrei capire cosa si stanno dicendo continuo a distruggere le ceste peccato che non è attivo il fuoco sono pure il pavimento dell'inter ecco perché l'ho distrutto non dai scherzo io l'ho distruggere l'ho distrutto ok ragazzi sto distruggendo letteralmente questa fazione andiamo a controllare se c'è qualche altra fazione da distruggere i cigli sono meravigliati che non mi banano allora quella l'ho distrutto quella l'ho qui creeper mi ha fatto paura vediamo qui su mi sa che ho messo la lava si ok ragazzi buttiamo lava questa è la griffata più epica che abbia fatto quello di griffate non fate altro però non le ho registrate ok ragazzi abbiamo distruggere abbiamo distruggere questa fazione c'è letteralmente non c'è più niente solo i residui c'è lava dappertutto se non hai comprato questo server dopo non puoi con la guerra di brutto mi devo craftare un cartello così lascio il mio segno ok piazzo così due anzi così tre secchi di lava e finisco quello che vi fa do un po' cos'è di merda non saltare ok andiamo a piazzare le ultime secchi è sempre così bella figura di merda bella figura di merda ah ah ecco vabbè ragazzi l'importante che abbiamo grifato è sono ingreppato qua non so come devo uscire ecco no si si non muoio non devo morire non devo morire no 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 vabbè Ragazzi non fa niente Che sto volendo tanto Non ci rientro più in questo server di merda Ormai distrutto Cioè distrutto le fazioni più importanti E ci risentiamo Alla prossima rifata Beh mi raccomando Mettete un mi piace Ciao